L'ho preso negli Avengers, quindi ho sviluppato le nuove pose per interagire con loro. No, questo non ce la faccio. Tipo, uno di voi mi può fare Capitano America, uno anche te, ma è forse. La cosa tipica che dice sempre Capitano America, tipo, Posamen, loro sono in trenta, noi siamo solo in due, ma insieme ce la possiamo fare, andiamo. Posamen, loro sono in trenta, noi siamo solo in due, andiamo. Ecco, adesso muoio e tutto andrà bene. Sta indicando dove. No, sta volando. Poi c'è, che ne so, Occhio di Falco invece, una frase tipica sua è Posamen, la situazione è critica, che facciamo? Posamen, la situazione è critica, che facciamo? Poi c'è, che facciamo?